Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Ebbene, il messaggio di questa sera dice, non amare il mondo, se no, non ami Dio. Non bisogna fare troppi riccioli intorno a certi principi che sono chiari nella parola di Dio. Non amare il mondo, se no, non ami Dio. Chiaro? È un verso parafrasato che lo possiamo leggere. In Primo Giovanni, capitolo 2, verso 15, dice proprio questo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno, chiunque tu sia, maschio o femmina, o il presidente della tutta l'organizzazione mondiale, di qualsiasi ente, chi sei? O il più povero di questo mondo? Il secondo rigo dice così, leggiamo. La legge di Dio è uguale per tutti. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Per fare l'analisi, da che parte siamo, è molto facile. Non abbiamo bisogno di andare da uno specialista del settore. Basta guardare dentro di noi su che cosa sono impergnati i nostri pensieri, le nostre aspirazioni, i nostri desideri. Questo, quello che noi pensiamo, quello siamo. Facile da capire una persona che, da che parte è protente. Se uno sportivo, come lo incontri, ti parla di pallone. Se uno che gli piacciono i soldi, subito comincia a parlare di soldi. Se uno che cerca successo, ti parla con paroloni che non li sa più dove li deve trovare. E ti dice come diceva Tizio, come diceva Caio, sembra che tu conosci tutte quelle persone che ha studiato lui. Se un altro è amante dei sensi sensuali, ti parla subito di quello, lo vedi agitato, guarda intorno, lo vedi sempre movimentato, che è alla ricerca di nuovi incontri, nuove avventure. Perciò quello che pensiamo, quello siamo, per sapere se sei dalla parte di Dio, puoi fare un esame in questo momento. Su che cosa sono impregnati i tuoi pensieri? Che cosa pensi? Cosa desideri? Gesù dice, l'uomo come pensa, così è. Gli leggiamo questo verso. Così puoi fare un'analisi subito, elementale. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se le cose del mondo sono sempre davanti alla tua mente, che non ti danno pace perché li devi raggiungere da tutte le parti, gli obiettivi che ti prefiggi, è altro che sei ore e quaranta al giorno, ventiquattro ore e più qualche poco di più, pensi sempre a quelle cose, già sai da che parte tendi. Se invece il tuo desiderio è di onorare Dio, cercare Dio, amare Dio, leggere la sua parola, testimoniare del Signore, ecco qua. Il secondo rigo dice così. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. è semplice. Noi dobbiamo andare in qualche parte che c'è qualche macchina per fare le analisi. L'analisi la puoi fare tu. La Bibbia ci aiuta, è semplice. Mentre è semplice sapere, ci consiglia cosa dobbiamo pensare però. Perché la parola di Dio ci dirige sempre verso la buona direzione. Ci fa vedere tutte e due, però ci dice, scegli il bene. Come dice Dio nel Deuteronomio, io metto davanti a te la vita e la morte. La strada la scegli tu. Io ti consiglio, scegli la vita. Perché così tu vivrai. In Filippesi 4,8 leggiamo cosa dice. Quindi, fratello, sorella, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle di cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei tuoi pensieri. Ecco, che oggetti tieni nei tuoi pensieri? Fai subito a sapere. Questo ti identifica chi sei perché subito lo realizzi. Chi sei? Entri subito in una categoria. Le categorie sono due. O sei dalla parte di Dio o sei all'opposizione. Non c'è il campo largo con Dio. Come la politica. Campo largo di qua, campo largo di là. Signore, aiutaci. Sono solo due. O sei con Dio o sei all'opposizione. Signore, aiutaci questa sera. Se le cose celesti impregnano il nostro cuore, abbiamo lo Spirito Santo che occupa la latitudine dei nostri sentimenti e ci permette di spaziare nell'eternità del tempo, nelle prospettive future, quale sarà il nostro eterno destino e anche nella latitudine che ci protentiamo fino ad avere comunione con Dio nel cielo. non è poco. Perché lo Spirito Santo che riempie l'universo quando penetra nel nostro cuore e influenza la nostra vita, noi siamo come una goccia nell'oceano. Non è più separata. diventa oceano. Noi siamo in comunione con Dio perché siamo in Dio. Siamo in Cristo. Siamo un tutt'uno con Lui. Come la goccia che cade nell'oceano è un tutt'uno con l'oceano. Questa è la latitudine dello Spirito Santo che ci permette di avere comunione con Dio mentre siamo qui. Siamo presenti con Lui. Come l'oceano o il mare tocca gli scogli della nostra città. Ma poi si estende negli oceani ed fa parte della latitudine di tutto il mare. Perciò abbiamo comunione con Dio. Per mezzo della comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo la speranza è sempre viva nel nostro cuore perché se abbiamo amore per Dio l'amore di Dio è sempre presente nel nostro cuore perché dilaga dentro di noi. c'è sempre una speranza viva di avere comunione con Lui e l'abbiamo perché sentiamo che Lui è presente nella nostra vita perché Dio è amore e come dice in Romani 5,5 che l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori. La speranza non è una speranza che ha da venire perché l'amore di Dio è presente dentro di noi è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Cioè lo Spirito Santo impregna tutti i nostri sentimenti che non dobbiamo dire forse sì forse no forse avrò comunione con Dio no Gesù dice che quando noi osserviamo i Suoi comandamenti e camminiamo con Lui io se voi mi amate osserverete i miei comandamenti io e il Padre verremo e faremo dimora presso di voi la natitudine dello Spirito Santo ci permette di avere comunione con Dio e di spaziare nell'eternità dove dobbiamo andare ed è la comunione che abbiamo sempre presente nella nostra vita perché l'amore di Dio che riempie l'universo per mezzo dell'amore dello Spirito Santo impregne la nostra vita e lo sentiamo presente dentro di noi se invece amiamo il mondo vuol dire che non amiamo Dio e non abbiamo il suo amore dentro di noi rileggiamo cosa dice in primo Giovanni capitolo 2 verso 15 divide le persone in due modi non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui ci sono allora credenti autentici e credenti ribelli a Dio attaccati e sottomessi al sistema del principe di questo mondo il principe di questo mondo è l'avversario di Dio il nostro avversario il nostro nemico comune Gesù disse un giorno il principe di questo mondo sta per venire ma non ha nulla in me cioè io non ho aderito a neppure una sola indicazione che lui mi ha dato di ubbidire a lui mi sono attenuto strettamente a quello che il Padre vuole che io devo fare una vita vissuta santa e invece i cristiani mezzi mezzi sono pieni di roba che viene dal nemico nella loro vita leggiamo insieme in Efesini capitolo 1 verso capitolo 2 dal verso 1 al verso 3 Dio ha vivificato anche voi voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli il verso 3 dice così leggiamo anche il verso nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri ed eravamo per natura figli di ira come gli altri ci sono dei credenti autentici e dei credenti che vivono sotto l'ira di Dio può essere ma Dio non è addirato verso le persone Dio non digerisce il peccato nella nostra vita e quando noi gli lasciamo spazio a causa del peccato ci troviamo Dio contro di noi dobbiamo mettere fuori il peccato dalla nostra vita qui dice così che quando noi incontriamo il Signore o siamo nati di nuovo siamo stati risuscitati in novità di vita la vecchia vita è ormai una cosa passata ma purtroppo bisogna ammettere che ci sono credenti autentici e credenti formali quelli autentici dicono il Signore ha fatto questa opere nella mia vita adesso il principe di questo mondo con tutto ciò che gli appartiene io ogni volta che scopro qualcosa che di suo nella mia vita via dalla mia vita questa si chiama santificazione togliamo ogni giorno quello che non piace a Dio perché lo scopo della nostra vita è questo Signore quello che piace a Te piace pure a me quello che non piace a Te non piace neppure a me perché io voglio vivere come piace a Te invece ce n'è un'altra categoria che frequenta la Chiesa va al culto va alla Messa va in Chiesa un cristianesimo che non parla di com'era una volta vive adesso ancora come una volta per esempio non legge ma vive ora guardiamo un tipo di credenti formali leggiamo insieme in Efesini 2 1 Dio ha vivificato anche noi noi che eravamo morti nelle nostre colpe nei nostri peccati questa è la nuova nascita mentre i credenti che non sono autentici che si attengono a fare quello che vuole Dio ma che vivono secondo le passioni del mondo non leggono il passato leggono al presente leggono così siamo ancora morti andiamo in Chiesa ma viviamo secondo il sistema mondano questi non sono i credenti autentici forse hanno ricevuto una piccola illuminazione forse hanno ricevuto anche la parola sono diventati formali vanno e vengono in Chiesa frequentano ma la loro vita la vivono come quelli del mondo perciò il verso 2 parla sempre al passato ma loro lo vedono al presente ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo loro leggono così ma vivono secondo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli non è cambiato nulla ci sono due tipi di credenti autentici e gli altri che vivono sotto l'ira di Dio leggiamo il verso 3 per cortesia nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo loro invece vivono e dicono nel numero dei quali noi viviamo secondo i desideri della nostra carne e dubbiamo le voglie della carne e dei nostri pensieri e siamo per natura figli di ira come gli altri allora quando leggiamo non amate il mondo né le cose che sono nel mondo da che parte siamo se uno ama il mondo l'amore del padre non è lui perciò facendo un'analisi già sai da che parte sei posso subito sapere quali sono le mie aspirazioni come vivo la mia vita disordinata o mi attengo nel limite delle mie possibilità di piacere al Signore di servire il Signore possiamo anche cantare la vita mia per te sprendere vorrei però poi è vero o ci piace solo la melodia questo è un esame che non può fare nessuno se non io personalmente per me e tu personalmente per te non leggono ascoltano vivono secondo le voglie della carne nella perversione della mente l'ira di Dio è nei nostri cuori perché Dio odia il peccato e noi ci siamo dentro fino ai capelli fino alla cima dei capelli ci sono dei credenti formali che nel peccato ci sguazzano nel mondo lo vivono tutto ma il messaggio parafrasato dice non amare il mondo se no non ami Dio allora si sa da che parte siamo e ciò dobbiamo cambiare non basta mettersi una Bibbia sotto il braccio o il velo in testa ed entrare con riverenza in un luogo di culto e poi vivere una vita disordinata tutte quelle formule esterne che non aiutano che serve dobbiamo prima permettere allo Spirito Santo di operare nella nostra vita Gesù ha sempre combattuto questa categoria voi pulite il fuori ma state sporchi dentro con parole pesanti dichiara questa categoria che ci sono anche adesso non è che c'erano solo al tempo di Gesù dei sepolcri imbiancati se vai in un cimitero monumentale trovi dei monumenti fatti loculi fatti dei monumenti su dei morti che fanno paura hanno speso un capitale però se sollevi quei marmi devi chiudere il naso ti viene da rimettere ecco la storia la storia continua la storia si ripete ma il Signore attraverso la sua parola ci dice se tu ami queste cose se i tuoi pensieri se i tuoi sentimenti sono trasportati verso il peccato e lo vivi allora hai bisogno di un vero ravvedimento ma subito senza perdere tempo perché mentre noi siamo davanti alla parola del Signore lo Spirito Santo ci manda una parola fresca e ci fa immedesimare nel dire vuoi vedere che io sono messo male la parola del Signore è come uno specchio ma quando con lo specchio guardiamo qualcosa che bisogna pulire sul nostro viso non dobbiamo rompere lo specchio dobbiamo pulirci questo fa la parola del Signore mentre la leggiamo il peccato in noi se ci siamo dentro se lo viviamo se siamo attratti ancora dobbiamo ravvederci Signore aiutaci continuiamo a leggere il verso 16 del capitolo 2 primo Giovanni 2 16 perché tutto ciò che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo anche se sappiamo che è sbagliato ma noi lo viviamo lo stesso tanti sanno che è sbagliato leggono la Bibbia ci sono tanti idolati che leggono i comandamenti di non adorare gli idoli leggono e poi si incinocchiano e pregano gli idoli scusa l'hai appena letto che stai facendo come se fosse una cosa che non riguarda loro come se ciò che ascoltano ciò che leggono serve per un altro la parola di Dio serve per noi che leggiamo che ascoltiamo che siamo in vita che stiamo ascoltando quando ci avviciniamo alla parola del Signore non dobbiamo pensare che parla agli altri parla a noi nel verso 17 continua e dice così leggiamo il mondo passa via con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno vedi dà luce chiara quando leggiamo la parola del Signore e noi mentre leggiamo dobbiamo sapere da che parte vogliamo stare perché le indicazioni sono chiare è come essere su una strada se non ci sono indicazioni possiamo anche sbagliare siamo perdonati perché non c'è nessuna indicazione ma se le indicazioni sono chiare la freccia dice con chiarezza che quella è la strada da prendere e noi prendiamo proprio quella sbagliata vuol dire che non possiamo lamentarci con nessuno siamo noi che abbiamo scelto di voler volontariamente sbagliare questo è il cristiano moderno leggiamo bene ho detto così quelli che l'amore del padre non è il loro vivono il contrario di quello che dice la scrittura frate voglio rileggerlo sorelle vogliamo leggerlo insieme non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lei non è in lui se tu non senti quell'amore profondo di Dio quella passione di avere comunione con lui di leggere e meditare la sua parola di collaborare per l'avanzamento del regno di Dio se non hai la passione in questo modo c'è l'altra che ti domina non lo devi chiedere a un pastore a uno specialista del settore lo sai già tu è come quando ti mangi qualcosa e ti senti male sai che quella cosa ti ha fatto male non te la devi mangiare più se ti fa male te la rimangi poi vai dal dottore e dici dottore ogni volta che mi mangio questo prodotto io sto male ci vuole il dottore per dirti che non la devi mangiare più Dio ti ha dato l'intelligenza di sapere che se quella ti fa male ci sono degli elementi che a uno fa un effetto a un altro fa un altro effetto dobbiamo sapere noi se fa bene o se fa male in questo caso la parola del Signore ci fa da arbitro ci dice come dobbiamo fare dice non amate il mondo e quando noi leggiamo un verso ce ne sono mille duemila cinquemila che dicono la stessa cosa per aiutarci a comprendere Giacomo nel capitolo 4 verso 4 sotto lo stesso trono dice la stessa cosa con parole diverse chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio ti è chiaro? noi siamo come diceva Lutero come un mulo allora c'erano i muli non c'erano le macchine o veniamo cavalcati da Dio o veniamo cavalcati dal diavolo uno ci deve governare la scelta sta nelle nostre mani chi vogliamo mettere in sella chi ci deve dominare il credente autentico desidera veramente desidera che sia Dio a governare la nostra vita perché lui lo fa volentieri e quando si vede sporco di qualcosa che lo inquina che lo insudicia come dice in primo Giovanni 1.9 corre subito a confessare a Dio perché i sintomi di una vera salvezza è che vogliamo restare sempre puliti davanti al Signore prima Giovanni 1.9 se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità i credenti veri i credenti veraci i credenti autentici vogliono camminare puliti senza l'inquinamento del peccato di questo mondo ci sporchiamo certamente involontariamente o qualche perciò dobbiamo sempre ma una cosa è volerci vivere ed essere immersi fino ai capelli la cima dei capelli è un'altra cosa che succede per caso e corriamo subito ai ripari i sintomi di una vera salvezza sono questi quando ci accorgiamo dobbiamo subito a correre i ripari chiunque amico chiunque amico non lo deve confessare perché lo vive chiunque amico nemico non lo deve confessare perché lo vive perché lo vive lo pensa e agisce di conseguenza se le nostre azioni se noi pensiamo agiamo e ci muoviamo così vuol dire che tentiamo da quella parte in romani 8 7 e 8 ci aiuta a comprendere infatti ciò che brama la carne è nemicizia contro Dio perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio automaticamente siamo nemici di Dio Signore aiutaci questa sera chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio cioè il Vangelo è molto chiaro noi vogliamo essere accarezzati ci vogliamo mettere le paroline aggiustate come dire non ti preoccupare non ti preoccupare vogliamo essere tolleranti ma io posso essere anche tollerante con te e tu con me la stessa cosa ma noi dobbiamo vedere che pensa Dio a questo riguardo perché fra me e te ci possiamo anche capire però dobbiamo sempre pensare che chi vede tutto chi sa tutto è sempre il Signore e noi dobbiamo una buona volta avere questo incontro con il Signore perché Lui ci vuole guidare Lui ci ama Lui ci parla con amore vuole il nostro bene leggiamo cosa dice ciò che abbiamo letto così lo Spirito Santo possa darci infatti ciò che brama la carne è inemicizia contro Dio perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo la carne e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio primo Giovanni 2 13 a 17 dice così Padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno ragazzi vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre padri vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno allora che cosa dobbiamo fare ecco qua non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui perché tutto ciò che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno Signore grazie per la tua parola le indicazioni sono chiare anche oggi siamo al Bivio per chi non ha scelto e per chi ha già scelto ci dobbiamo sempre fortificare perché il nemico è sempre astuto se le inventa sempre tutte anche se abbiamo scelto noi ci dobbiamo fortificare sempre 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 il buon consiglio della parola di Dio ci porta sempre verso la direzione giusta e quando noi seguiamo le indicazioni che ci vengono date dal Signore noi miglioriamo immediatamente in Efesini 6 10 dice fortifichiamoci del resto da questo momento in poi sorella fratello chiunque tu sia fortifichiamoci nel Signore e nella forza della sua potenza il nemico non si ferma ma per questo noi dobbiamo essere forti perché noi abbiamo tante promesse di Dio un'eredità che non finisce mai un'eredità eterna non è come quella che era davanti al popolo di Israele che era l'eredità della terra promessa dove ancora fanno guerra la nostra eredità e l'eredità celeste il cielo il paradiso per l'eternità eppure lì Dio diceva a Giosuè e oggi lo dice a me e a te con più interesse dobbiamo stare attenti noi perché non è un'eredità terrestre la nostra è celeste in Giosuè 1.6 il Signore incoraggia Giosuè e stasera incoraggia me e te sii forte e coraggiosa sii forte e coraggioso perché tu andrai a possedere tutte quelle promesse che il Signore ha fatto al tuo cuore se tu le insegui se tu ti muovi se tu ti fortifichi hai delle promesse da parte del Signore credente perciò sii forte non restare indietro perché se resti indietro li perdi non ti trovi nel sistema che man mano che tu cammini al passo di Dio hai dei riscontri la nostra vita è come su un nastro che man mano che camminiamo si incrociano le promesse di Dio e noi li possediamo fino a destinazione finché possediamo il cielo se cominciamo a rallentare a arrancare e cominciamo a restare indietro il nemico quello cerca perché il nemico cerca in tutti i modi o di fermarci o di spingerci per farci rotolare farci camminare più svelti che non ce la facciamo inciampiamo o ci mette lo sgambetto e andiamo a finire sempre che ci facciamo male signore aiutaci il signore dice che dobbiamo abbiamo ancora molte promesse non dobbiamo restare indietro perché il nostro nemico è come un leone ruggente intorno ad ognuno di noi il leone non è che ti prende solo davanti ti prende dal lato ti prende di dietro bisogna stare sempre attento tutti i domatori di tigre e di leoni anche nei circhi dove vai guarda che non girano mai le spalle alla tigre non girano mai la spalla al leone perché sono animali pericolosissimi così è il diavolo basta un attimo che giri la spalla ad una tigre in una gabbia addio ti salta addosso non ti salvi più e spesso sentiamo sui giornali che succedono queste cose in primo Pietro capitolo 5 verso 8 il Signore ci avvisa dicendoci che dobbiamo stare sempre vigili non girare mai le spalle al mondo alle cose del mondo al nostro nemico perché lui è senza pietà ti distrugge distrugge la tua famiglia non è come Dio leggiamo insieme cosa dice siate sombri vedi come lo dice bene vegliate il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando non chi possa graffiare chi possa divorare signore aiutaci questa sera e se ti indebolisci peggio ancora diventi come Amalek diventi diventa come Amalek la storia di Amalek la sai come Amalek sul nostro viaggio in Deuteronomio capitolo 25 verso 17 Deuteronomio è il libro dei ricordi quando dice in Deuteronomio ricordati ricordati serve per le generazioni future e la regge ripetuta per ricordare alle nuove generazioni che devono stare attenti ricordati di quel che ti fece Amalek durante il viaggio quando uscisti dall'Egitto noi abbiamo un'immagine uguale l'abbiamo letta i Nefesini due da uno a tre lo leggiamo un'altra volta quando stavamo sotto Amalek come ci trattava leggiamolo Dio ci ha tirati fuori ci ha vivificati noi che eravamo morti nelle nostre colpe nei nostri peccati un tempo un tempo eravamo sotto Faraone e sotto Amalek seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo tra l'Egitto e Amalek e la guerra continua secondo i desideri della nostra carne ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri ed eravamo per natura figli di Ira come gli altri ma adesso siamo leggiamo il verso 4 ma Dio che ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati leggiamo il verso 5 anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia siamo stati salvati e perciò dobbiamo stare attenti Dio ci ha fatto il grande dono della salvezza abbiamo cantato e venne a liberare e venne apposta via della sua vita ed ora ci raccomanda di non tornare nella melma del peccato e di stare attenti lungo il percorso di Amalek una volta si chiama Faraone una volta si chiama Amalek ma sul nostro cammino noi dobbiamo stare sempre attenti non dobbiamo dimenticare Saul dimenticò nel capitolo 15 di primo Samuele se tu vai a leggere quella storia ci fu la distruzione di Saul della sua famiglia del regno che perse fu allontanato da Dio e fu perso per sempre fu sostituito dal re Davide proprio a causa di Amalek erano passati circa 500 anni aveva dimenticato noi non dobbiamo dimenticare perché lui usa un sistema di fermarci di bloccarci di inquinarci di tentarci e se cominciamo ad essere deboli gli diamo l'occasione di farci fuori leggiamo leggiamo i prossimi versi del capitolo 25 del Deuteronomio cosa fece verso 18 e 19 egli ti attaccò per via fiombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio signore aiutaci questa sera non guardiamo insieme prima questo per cortesia leggiamolo un'altra volta quando tu cominci ad essere debole che non ce la fai più perciò ci dobbiamo fortificare tu dai un'occasione al nemico che ti salta addosso e non ti salvi più quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio il nostro nemico comune non ha timore di Dio siamo noi che dobbiamo mantenerci vicino a Dio per non permettere a Lui di operare nella nostra vita sottomettetevi a Dio ed Egli fuggirà da voi noi dobbiamo mantenerci più vicini al Signore possibile leggiamo il verso 19 quando dunque il Signore il tuo Dio ti avrà dato pace liberando ti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità perché tu lo possegga cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo non te ne scordare non te ne scordare noi facilmente ci scordiamo del diavolo ma Lui in tutte le sfere della nostra vita si inventa sempre qualcosa di nuovo siamo in guerra con Lui forse noi guardiamo il carroarmato che è lontano e invece c'è un cecchino vicino a noi che ci spara perché Lui se le inventa tutte questo è il mondo con tutte le sue concupiscenze se ci indeboliamo lo troviamo in tutti gli angoli del nostro cammino una volta si presenta in un modo un'altra volta si presenta in un altro rendiamo sante decisioni fortifichiamoci nel Signore come abbiamo letto in Efesini capitolo 6 verso 10 facciamolo subito manteniamo alta la posizione del resto da questo momento in poi vuole dire fortifichiamoci nel Signore e nella forza della sua potenza Signore aiutaci è il tempo che dobbiamo sprecare per altre cose vogliamo dire al Signore da questo momento voglio spendere il meglio della mia vita per servire Te perché quando noi siamo al suo servizio quando camminiamo con Lui quando facciamo la sua volontà abbiamo la sua assistenza continua e siamo forti in Lui non dire ormai sono anziano non posso fare niente più ci sono di quelli a 60 anni 55 60 anni dicono non posso fare niente più peccato potevo farlo il Signore mi aveva chiamato ma adesso sono anziano non posso fare niente più no 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 oggi è ancora il meglio se oggi ti fa male una gamba domani ti faranno male tutte e due datti da fare subito onore il Signore prendiamo coscienza di queste cose le sappiamo ma questo non ci deve fermare di onorare Dio ogni nel meglio che possiamo ogni giorno onorare il Signore con la bocca col cuore con il servizio in proverbi 3 9 dice onore il Signore con i tuoi beni leggiamolo insieme dove non possiamo arrivare in un modo arriviamo in un altro modo è importante avere il desiderio di onorare Dio con tutto quello che siamo e con tutto quello che abbiamo perché Dio onora quelli che l'onorano e fugge fugge via da te lo scoraggiamento perché lo Spirito Santo comincia ad invadere la tua vita così come abbiamo letto del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza mettiamoci subito all'opera dietro ai consigli che il Signore ci dà perché quelli permettono alla nostra vita di vedere un cambio radicale dentro di noi è importante decidere di voler servire piacere a Dio da questo momento con tutto il cuore lo onori con la bocca col cuore con il movimento come meglio puoi e anche come dice in Proverbi 3 e 9 per sostenere l'opera del Signore e proseguire trovi tutto scritto nel libro delle memorie quando vai davanti al Signore questa è la bellezza e non perdiamo nulla se no perdiamo tutto leggiamo Proverbi 3 e 9 onore il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita di ogni cosa che tu sei e di ogni cosa che tu hai fortifichiamo questo ci fortifica nel Signore perché il Signore ci prospetta sempre nuove cose da fare e vediamo sempre che oggi è meglio di ieri e domani sarà meglio di oggi perché col Signore abbiamo la certezza che Lui resta con noi fino all'ultimo respiro della nostra vita ringraziamolo insieme e mettiamoci all'opera Signore ti ringraziamo per la Tua parola grazie che Tu ci parli come un grande generale per metterci in guardia per come combattere giorno dopo giorno nel nostro cammino insieme con Te che sei il capitano dell'esercito dell'Eterno e noi siamo il Tuo esercito su questo pianeta perciò vogliamo dipendere da Te vogliamo ascoltare ogni indicazione che viene da Te dalla Tua parola per applicarla nella nostra vita nel nome di Gesù Amen 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 Gloria al Signore prendi nota dove abbiamo letto così vai a cercare quei versi che ti hanno parlato non amare il mondo se no non ami Dio 1 Giovanni 2,15 Filippesi 4,8 Romani 5,5 Efesini 2 da 1 a 3 1 Giovanni 2,15 a 17 Giacomo 4,4 Romani 8,7 a 8 1 Giovanni 2,13 a 17 Efesini 6,10 Giosuè 1,6 1 Pietro 5,8 Deuteronomio 25 da 17 a 19 Efesini 6,10 Fortifichiamoci nel Signore e nella forza della sua potenza o della sua possanza e Lui opererà nella nostra vita Dio ti benedica ti voglio benedire nel nome del Signore Signore benedici fratello la sorella l'amico l'amica tutti coloro che siamo insieme che la tua benedizione scorra sopra di lui sopra di lei sulla sua famiglia nei suoi bisogni Spirito Santo di Dio benedicilo benedicilo benedicila nel nome di Gesù Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org